Blocco? Innanzitutto c'è un governo in carica tedesco, c'è un ministro delle finanze pro-tempo che vi assicuro è estremamente efficace. La questione non ha niente a che fare con la Banca Centrale Europea e stiamo parlando di due questioni diverse. Quanto alla geografia dentro il board della BCE, meccanismi o legami meccanici in base alla nazionalità dei Paesi membri lasciano il tempo che trovano. Tanto per citare un ovvio esempio, pensateci un secondo, in questo momento il presidente della BCE è italiano e il vicepresidente della BCE è portoghese, è stato così per molti anni, quindi vuol dire che la geografia c'entra molto poco.